a te a te sui mezzi di emergenza a te in prima linea negli ospedali a te che sei medico infermiere a te che sei nei laboratori ricercatore farmacista a te che ti occupi del cibo che lo coltivi che lo trasporti a te che ci trasporti a te che ci difendi a te che ti prendi cura degli altri senza chiedere nulla in cambio a te che sei anziano bambino grande a te che resti a casa a te che sei malato che sei guarito soprattutto a te che stai ancora soffrendo a te italia insieme a te rinasceremo buona pasqua